Musica Quindi tu gliela passi da lì direi C'è tipo dalla rimessa Fai conto che stai facendo la rimessa Da lì Tu gli fai il blocco e poi vai a rimbarzo Pronti? Via Devi aumentare la velocità quando esci dal blocco Non diminuire Passagliela prima Se no si deve fermare Vai Fai subito la stessa cosa da 3 Sempre fai il blocco e tu esci da 3 Pronto? Sì Ok Sì quindi il blocco dove lo farai? Va in fondo Vai in fondo dove c'è il Spigolo rosso Tira dritto Adesso taglia Prendi il blocco e ritaglia Via E la ricevi lì Dove c'è la riga rossa e la riga bianca Ok Vai 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 vai